la calcio cianamide percla contiene calcio il 50 per cento di calcio totale è espresso come cao la distribuzione del prodotto sul terreno avviene normalmente con comuni spandi concime cui segue l'interramento mediante frangizzolatura o meglio fresatura le attività di ricerca e di campo hanno consentito di sviluppare la distribuzione della calcio cianamide con aratri in grado di localizzare il prodotto mantenendo inalterata l'efficacia ed esaltando le caratteristiche nutrizionali a ripresa vegetativa delle colture il prodotto calcio cianamide grazie allo sviluppo delle nuove tecniche applicative rappresenta oggi una delle migliori soluzioni nutrizionali per l'agricoltura moderna